Un attentato ha fatto una cinquantina di morti a Quetta, in Pakistan. I feriti sono almeno 200. La bomba è esplosa in un quartiere sciita della capitale del Belucistan. Secondo la polizia si tratterebbe dell'opera di estremisti sunniti. Da diversi anni la comunità sciita del Pakistan è bersaglio di attacchi perpetrati da militanti sunniti. In Afghanistan circa il 75% della popolazione sunnita. Gli sciiti costituiscono il 20% circa e vivono principalmente nel nord-ovest del paese, vicino al confine con l'Afghanistan.